La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di 1TV dopo la pausa estiva. Ricominciamo con la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere la prima pagina del mattino. In apertura verso le elezioni, si parla delle liste, sprint tra i veleni, la rivolta dei territori. Polemiche per i candidati imposti da Roma, Tremonti e Terzi con Fratelli d'Italia, Berlusconi capolista in Campania, Conte apre al PD, poi fa dietro front. Duello social inneggia la rivoluzione russa, attacco della Meloni a Sarracino e la replica polemica becera. Di lato morta la figlia di Dugin, l'attentato contro l'ideologo di Putin, scambio di accuse tra Mosca e Kiev. Di taglio alto lo sport, Barascio, Napoli, Stendel, Monza, poker di reti e spettacolo doppietta del Georgiano con Osimen e Kim. Di taglio basso, Ischia per la ricostruzione servono 700 milioni, il piano Legnini a 5 anni dal sisma. Poi il delitto di Giffoni, orrore in famiglia e l'orrore in famiglia è il silenzio colpevole di una comunità. Questa era la prima pagina, andiamo a vedere in primo piano la volata dei partiti verso le elezioni. Centrodestra, liste tra i veleni, Berlusconi capolista in Campania, l'ex prefetto Pecoraro con Fratelli d'Italia, anche Tremonti e Terzi di Sant'Agata con la Meloni candidata all'Aquila. Forza Italia punta su Rita dalla Chiesa in Liguria e Puglia. Giorgia Meloni dovrebbe andare all'uninominale dell'Aquila, Silvio Berlusconi capolista nel proporzionale in Lombardia, Lazio, Piemonte e Campania. Le ultime fibrillazioni agitano i partiti del centrodestra. Oggi alle 20 le liste definitive vanno consegnate, ma come nei giorni scorsi la quadra sembra sempre sul punto di chiudersi e poi si riapre con malumori, accuse, proteste per le esclusioni, ma alla fine quasi tutti i big trovano un posto. Andiamo avanti. Rimaniamo sempre sulla battaglia dei seggi, scissioni e rinunce, la rivolta dei territori per le candidature PD. Pittella esce dal partito in Basilicata, Castelli difiuta il collegio di Novara, Frantoianni lascia il seggio di Pisa al suo posto, il costituzionalista, ceccanti, malumori, defezioni, accuse, recriminazioni, giuro, rimpiango, le preferenze. Si rammaricava qualche giorno fa il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, entro oggi negli uffici elettorali delle corti d'appello italiane. I partiti dovranno depositare le liste dei candidati alle elezioni. Fino all'ultimo nel centro-sinistra c'è Subbuglio, chi accusa, chi cambia casacca, chi sostiene di essere stato inserito a sua insaputa. Ore 12.06 di ieri scopro dai giornali e da qualche simpatico tweet che sarei candidata all'uninominale di Novara. No, grazie, casa mia è collegno. Se la coalizione ha fatto altre scelte ne prendo atto. In pieno spirito di squadra darò il mio concreto contributo nei plurinominali di impegno civico, annuncia il viceministro dell'economia Laura Castelli, ex Movimento 5 Stelle, ora schierata con Luigi Di Maio. Rimaniamo ancora sul mattino. Andiamo a vedere il Movimento 5 Stelle. Conte che apre ai democratici, si può tornare insieme, poi il dietro front, non ora, il leader del Movimento 5 Stelle, le mie parole travisate, idem, esperienza chiusa anche post voto. In campagna le accuse ad una candidata grillina si è votata a nome di altri iscritti. A volte ritornano come quegli amori difficili cantati da Antonello Benditti che fanno giri immensi. Il giro di Giuseppe Conte invece dura meno di un paio d'ore perché prima il leader dei 5 Stelle spiazza tutti, riaprendo al forno con il PD, dopo settimane passate a darsele di santa ragione con Enrico Letta. Poi un'ora più tardi, indietro tutta, sedersi di nuovo al tavolo con il Nazareno dopo il voto ci può stare, mette al verbale alle 15 l'avvocato ospite del salotto tv di Lucia Annunziata. Del resto in politica pensare di governare da soli, e io me lo auguro, precisa Conte, è improbabile. Dunque una prospettiva di lavorare domani con altre forze politiche come il PD ci può stare, anche se a Berte Conte con condizioni più chiare del passato. Cambiamo pagina e andiamo a vedere il caro energia. Imprese e famiglie in difficoltà contro il caro energia, temperature ridotte e meno luci nelle città. Il piano per abbassare i consumi in casa verso il taglio netto degli orari di accensione. Si rafforza l'ipotesi di un coprifuoco per l'illuminazione pubblica delle città. La corsa dei prezzi del gas non si ferma e le preoccupazioni crescono sempre più. Se i flussi di metano in arrivo dalla Russia continueranno a calare fino ad azzerarsi, i razionamenti saranno difficili da evitare come le chiusure delle imprese, non più in grado di sostenere i costi delle bollette alle stelle, con una conseguente brusca frenata dell'economia. Insomma uno scenario molto difficile per l'autunno e l'inverno, ma l'impennata ormai fuori controllo delle quotazioni del gas, che la settimana scorsa sono salite oltre 250 euro al megawattora, già ora fa presagire una nuova pesante ondata di rincari per le bollette di luce e metano. Andiamo avanti. Ecco la stangata d'autunno. In arrivo 5 milioni di cartelle. Il 70% degli atti sospesi durante il Covid verrà consegnato entro dicembre. Resta il nodo delle notifiche fiscali con PEC non presenti nei registri ufficiali. L'emergenza Covid è finita e con lei può dirsi archiviato anche il lockdown delle cartelle esattoriali. Gli atti della discussione congelati durante la fase più acuta della pandemia per dare respiro alle imprese e alle famiglie. Buona parte dei 20 milioni di cartelle messe in freezer durante la fase più acuta del Covid saranno avviate all'iter della notifica entro la fine di quest'anno. Più di due cartelle su tre saranno spedite ai contribuenti, imprese e famiglie entro il mese di dicembre. Il dato emerge dalla bozza di convenzione per il triennio che va dal 2022 al 2024 tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia che fissa tra le altre cose anche gli obiettivi della riscossione. Con questo lasciamo il mattino, ci spostiamo su cronache. In apertura, nella notte i candidati e le novità per Salerno, collegi bloccati dai BIG, Martuscello, Lancia, Milanese, La Formisano, Forza Italia, alla Camera Salerno, ci sono Tajani, Fascine e Giacomoni. Al quarto posto, il consigliere comunale di Scafati, Don Guidova a Napoli, preceduto da Tajani e Fascina, che hanno seggi blindati. Di taglio alto, sotto l'attestata Fratelli d'Italia, annuncia le candidature Salerno nel proporzionale Cidielli al numero 1, Carpentieri al 3, La Maiuria al 4, nell'agro uninominale scelta in Mavietri, nell'uninominale al Senato Antonio Iannone, fabbricatore al Senato nel listino al quarto posto. Di lato uninominale agro, Paola Lanzara, in questo territorio i valori democratici del PD sono radicati. Andiamo su centropagina, l'intervento di Michelangelo Russo, elezioni scarpinato contro Nordio dalla luce del pensiero socratico al buio del confessionale dell'Inquisizione. Poi gli altri nomi in campo, Dario Bassallo, candidato con i 5 Stelle, Maracarfagna, capolista in Campania. Unione popolare, forte al Senato, scococza alla Camera. Di taglio basso, Salerno, gestita da Arturo Portofranco, non Arturo, la comunità che accoglie i migranti. E poi Sanseverino, Patrizia Gallo, mia figlia di 3 anni, maltrattata in un ristorante. Sempre a Salerno, il progetto di Umberto Bisogno dalla fontana di scarica ad un'area di allenamento 4.0. Termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Andiamo alla linea alla regia. Eccoci di nuovo in studio, riprendiamo la rassegna stampa con il mattino di Salerno in apertura. Sulla prima pagina, la cronaca, il delitto di Giffoni Vallepiana massacrato con 40 coltellate. Il panettiere di Giffoni ucciso in 15 lunghissimi minuti, oggi gli interrogatori di moglie e figli. L'ossessione del controllo, 6 telecamere installate dalla vittima per sorvegliare i movimenti dei familiari. Di lato la scuola, energia, la crisi tra i banchi, ma la giunta salva le mense. Andiamo su centro pagina con lo sport, zero gol, serve una riete, difesa tutto su Daniliuk. De Santis punta il talento austriaco dell'Anter 21. Rimaniamo su centro pagina con le elezioni, liste, rush finale, tra i dubbi, vassallo in campo per il Movimento 5 Stelle. Oggi il termine per il deposito, centro-destra ancora poche certezze, terzo polo, D'Alessio dietro Carfagna e c'è Nadeo. Poi l'intervista a Pino Bicchielli, il io salernitano trapiantato a Roma, non temo, rivali illustri e figli d'arte. Di lato la fede alzata del panno, monito di Bellandi, la politica pensi al bene comune. Poi la polemica, minori, la fontana della discordia, lo sfogo del sindaco, basta con i livori. Questa era la prima pagina. Andiamo a vedere in primo piano il delitto di Giffoni, Valle Piana, Ciro, ucciso in 15 minuti con 40 coltellate. 5 i pugnali utilizzati da moglie e figli per massacrare e sezionare il panettiere. L'ossessione del controllo, 6 telecamere installate in un appartamento di 3 stanze. 40 coltellate inflitte con 5 lame. Ciro Palmieri, panettiere 43enne, è stato ucciso dalla moglie e due figli in 10-15 minuti. O meglio, per un quarto d'ora Palmieri è stato accoltellato mortalmente con 5 coltelli utilizzati dalla moglie, Monica Milite, dai due figli. 5 coltelli che sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia che li hanno trovati in un giardino attivo all'abitazione della famiglia Palmieri dove è stato compiuto il brutale omicidio nella frazione Curticelle a Giffoni, Valle Piana e a casa. 40 coltellate inflitte brutalmente e poi il sezionamento del cadavere. Orribili e cruenti i fotogrammi riguardanti l'omicidio del panettiere in cui sono stati immortalati moglie e figli che si accaniscono contro il congiunto accoltellandolo al culmine di una lite. Oggi gli interrogatori di garanzia di Monica Milite e dei due figli che hanno ucciso marito e padre. Lasciamo questa pagina, lasciamo la cronaca e rimaniamo sul mattino con le elezioni. Lisse allo sprint finale, Bassallo con il Movimento 5 Stelle, Terzo Polo c'è Naddeo. Ultime frenetiche ore per scegliere i nomi, solo il PD ha completato la rosa dei candidati, il fratello del sindaco pescatore in corsa all'uninominale sfiderà Pierro e Cascone. Poche ore e i conti ancora aperti dovranno necessariamente essere chiusi. Mancano ancora un po' di nomi per completare il quadro delle candidature alle elezioni politiche del 25 settembre. E se il PD, salvo ritocchi dell'ultimo minuto, ha portato a termine la compilazione delle liste, all'appello mancano la coalizione di centrodestra, il terzo polo di azione Italia Viva e il Movimento 5 Stelle. Quest'ultimo però lascia trapelare una candidatura pesante, quella di Dario Bassallo, nel collegio uninominale di Eboli e del Cilento per la Camera. Nello stesso collegio per la coalizione, capeggiata da Carlo Calenda, dovrebbe scendere in campo il segretario cittadino di azione, partito che a Salerno schiererà nel collegio uninominale per la Camera il consigliere comunale Corrado Naddeo. Lasciamo il mattino e andiamo su crona che andiamo a battipaglia. Madre e neonato salvi dopo essere rimasti bloccati nel traffico in autostrada. aveva subito il distacco della placenta, salvati in extremis dall'equip dell'ospedale di Battipaglia. A Battipaglia, nonostante le polemiche annose scaturenti dalla mancanza di personale nell'ospedale cittadino, tutti gli operatori continuano incessantemente a lavorare affinché ogni paziente abbia le giuste cure, andando ben oltre gli orari di lavoro previsti nella serata. Di sabato, una donna in gravi condizioni e suo figlio sono stati salvati dal personale del reparto di ostetricia e ginecologia del Santa Maria della Speranza. È stata una vera e propria corsa contro il tempo, anche perché l'ambulanza che trasportava la donna è rimasta bloccata sulla A2 del Mediterraneo per il traffico dovuto al rientro dei vacanzieri. Una serie di coincidenze negative che si sono risolte positivamente solo grazie all'efficienza e professionalità di tutto il personale infermeristico, ostetrico, medico che ha consentito di espletare il parto cesareo in pochi minuti dall'arrivo della gravida in preda ad un'emorragia severa. E andiamo avanti. Rimaniamo ancora su cronache, sindaci da tutta Italia in marcia pollica per conoscere la verità sulla morte di Angelo Bassallo. L'iniziativa si terrà il prossimo 3 settembre alle ore 18, partendo dal piazzale del porto fino a raggiungere il luogo dove fu ucciso. La marcia chiama a raccolta tutti quei cittadini giovani e la parte sana del paese che, ispirati dagli ideali del sindaco pescatore, hanno dato origine ad un'onda di legalità che da pollica si è allargata a tutta Italia e anche oltre i confini nazionali. La fondazione promuove e organizza per sabato 3 settembre alle ore 18 ad Acciaroli la marcia per Angelo che partirà dal piazzale del porto e raggiungerà il luogo dove fu ucciso il sindaco pescatore il 5 settembre del 2010. Un appuntamento civile e istituzionale per ricordare il sindaco ambientalista per non arretrare sulle indagini del suo assassino. Rimaniamo su questa pagina. Nel Golfo di Policastro finiscono fuoristrada due persone ferite a Capitello. Uno dei due trentenni ha riportato un grave trauma facciale, l'altro una frattura del braccio e diverse escoriazioni. Ancora un incidente stradale, ancora una volta si registrano feriti. E' avvenuto, questa volta si è verificato poco dopo le ore 6.30 di ieri mattina a Capitello una moto di grossa cilindrata con a bordo due persone residenti a Sapri, una di 31 e l'altra di 32 anni, è finita fuoristrada sbattendo contro il guardrail e finendo sull'asfalto. Rimaniamo nel Golfo di Policastro, danno fuoco alla spazzatura piccolo incendio in Via Verdi. Un piccolo rogo si è sviluppato ieri alle 12 a Sapri in Via Verdi a prendere fuoco cumuli di immondizia che impropriamente vengono abbandonati dai incivili incuranti delle regole della differenziata e soprattutto di quelle del buonsenso e dell'educazione. la rabbia dei residenti stanchi di questo tipo di episodi che si verificano quasi giornalmente. E termina qui la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati con noi, vi auguro buona giornata.